È stata un'operazione importante che ci ha permesso di disarticolare un gruppo di professionisti del furto. Abbiamo ricostruito almeno 19 furti che sono stati perpetrati nelle province di Parma, Reggio Emilia, Cremona, Padova e Piacenza da marzo 2017 a ottobre 2017. Un gruppo di professionisti avevano degli obiettivi variegati che andavano dai singoli esercizi commerciali, sale giochi, circoli e bar, ai grandi supermercati, portando via o del denaro contante o dell'abbigliamento, in alcuni casi delle casse forti e dei gratte vinci. Una struttura che si avvaleva della forza fisica dei suoi partecipanti, della professionalità e della conoscenza del territorio, i soggetti che operavano nella provincia di Parma e nelle province limitrofe da anni, con delle modalità scaltre, delle modalità operative scaltre ed efficaci. Sopra luoghi accuati?